Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Dal Salmo 29 Bentrovati, cari fratelli e sorelle, oggi è domenica 1 maggio, primo maggio, la terza domenica del tempo pasquale e oggi inizia anche il mese mariano, il mese di maggio sapete che è un mese dedicato alla Madonna in cui preghiamo con più intensità, con più amore, con più devozione il Santo Rosario e in cui anche dimostriamo alla Vergine Maria che gli vogliamo bene, anche facendo qualche sacrificio, sacrificio di carità, i cosiddetti fioretti, no? I fioretti che possono durare un mese intero, tutto il mese di maggio, anche leggere di più la parola di Dio. Ecco, fare questo è molto bello perché ecco, la Madonna gioisce quando noi ci impegniamo un pochettino a camminare nella fede. Poi ecco, in questo mese di maggio, che è un mese mariano, sarebbe opportuno che in tutte le case ci fosse un angolo di preghiera in cui venga esposta la statua della Madonna, la Bibbia, un cero acceso e così, diciamo, nelle case si preghi anche, cioè non soltanto in chiesa per la Santa Messa ma anche nelle case, in modo che anche i bambini capiscono che il mese di maggio è un mese particolare dedicato alla Madonna, è il mese anche in cui la primavera si fa più visibile, quindi c'è una primavera nella natura e ci dovrebbe essere così anche una primavera spirituale dentro di noi. Quindi il mese di maggio è quella la Madonna che agisce dentro di noi e favorisce questa primavera nello spirito, no? Quindi i fiori rappresentano le virtù, no? I profumi, la carità, l'amore verso gli altri, l'umiltà. Ecco, vivere in questa dimensione di preghiera ma anche quindi di primavera spirituale che tutti quanti noi quindi in questo mese possiamo camminare in questa direzione. È molto importante la preghiera anche con i bambini e anche davanti alla statua della Madonna a fare anche soltanto un Ave Maria, anche in casa un piccolo segno di preghiera che aiuta i piccoli a capire l'importanza della fede, l'importanza della Vergine Maria. Oggi nel Vangelo che ascolteremo, il Vangelo di Giovanni capitolo 19, si parla di una manifestazione di Gesù risorto. Sapete che in questo tempo pasquale ci sono tutte le manifestazioni più o meno ecco di Gesù risorto secondo i quattro Vangeli e oggi ecco c'è una manifestazione di Gesù risorto secondo il Vangelo di Giovanni. Questa manifestazione è molto bella perché riprende un po' l'evento della pesca miracolosa quando Pietro non aveva preso nulla insieme agli altri pescatori durante la notte e poi disse alla mattina Gesù gettate adesso le reti e troverete presero una grande quantità di pesci. E questo avviene anche oggi nel Vangelo, lo ascolteremo. Gesù risorto appare ai discepoli, si manifesta i discepoli dicendo loro di gettare le reti nella parte destra dopo una notte infruttuosa, dopo una notte sfortunata in cui non avevano pescato assolutamente nulla. Vi ricordate Pietro cosa disse quando diciamo ci fu la pesca miracolosa? Sulla tua parola getterò le reti. Ecco gettarono le reti e presero una grande quantità di pesci, una moltitudine di pesci. Questo che cosa significa? Significa che la vita della Chiesa senza Gesù non porta frutto. Gesù stesso l'ha detto, senza di me non potete far nulla. Invece ecco la vita della Chiesa, la vita spirituale con Gesù porta molti frutti. È veramente fruttuosa. La vita della Chiesa è fruttuosa soltanto con il Signore. È anche significativo il fatto che gli apostoli e Pietro non prendono nulla di notte. La notte indica le tenebre, il male, il peccato. Quindi nella notte delle tenebre non ci può essere pesca fruttuosa, no? Sapete la notte con l'assenza di luce, no? Ecco se non c'è la luce non c'è nulla. E poi Gesù si manifesta loro appunto all'alba, non appena sorge la luce del sole appunto perché lui, Gesù risorto, è questa luce del sole. Poi prendono una grande quantità di pesci e poi addirittura Gesù li invita anche a consumare insieme a lui il pane e il pesce. Questo diciamo ci riporta anche alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, che è tutto un discorso eucaristico nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Quindi Gesù moltiplica i pani e i pesci. In questo brano del Vangelo anche lui serve lui stesso il pane e i pesci ai suoi discepoli e quindi è un simbolo che riguarda appunto l'Eucaristia. Quindi Gesù risorto che è presente ed è vivo nella Santissima Eucaristia. E poi alla fine di questo Vangelo c'è il dialogo di Gesù con San Pietro. Gesù dice a San Pietro per tre volte, mi ami tu Simone di Cirene, mi ami tu, mi ami veramente. E glielo fa ripetere per tre volte. Perché glielo fa ripetere per tre volte? Perché San Pietro per tre volte aveva rinnegato Gesù durante la cattura, la passione, no? La sera, la notte del Giovedì Santo, quando fu catturato, San Pietro per tre volte aveva rinnegato il Signore, ha detto io non lo conosco. E Gesù gli appare, si manifesta a lui e parla con lui, rinnovando quindi una triplice professione di fede, anche come riparazione di quella triplice, del triplice rinnegamento del Signore. E' molto significativo il fatto è che Gesù dice a San Pietro, mi ami tu più di costoro, pasci le mie pecorelle. Un po' in questo brano c'è anche il primato di Pietro. Il primato di Pietro è presente in tanti brani, ecco, del Vangelo. Ma anche in questo brano, infatti, si dice mi ami tu più di costoro. Quindi la vocazione del Papa, la vocazione del Papa, sapete, il Papa è Pietro che continua a essere, a guidare la sua chiesa, no? Mi ami tu più di costoro. Quindi ecco, più una persona ha responsabilità e più deve amare il Signore. Questo è molto importante perché, ecco, nella Chiesa, ecco, i Vescovi, i Cardinali, il Papa, ma anche i Sacerdoti, ma anche tutti coloro che sono impegnati nelle attività pastorali, anche il Catechismo, no? I Catechisti dovrebbero manifestare un amore più grande al Gesù, verso Gesù. E questo amore poi, verso Gesù, trasforma la vita, l'abbellisce la vita. Quindi nella misura in cui noi abbiamo responsabilità nella Chiesa, tanto più dobbiamo amare il Signore Gesù, perché Gesù dice a San Pietro mi ami tu più di costoro, mi ami veramente tu più di costoro. Questa è la responsabilità che Gesù dava a San Pietro di essere il pastore, ecco, della Chiesa. È ovvio che il vero pastore, il pastore è Gesù Cristo, ma San Pietro come pastore della Chiesa, come guida della Chiesa, ecco, attinge questa sua funzione, questa sua guida dal Signore che è il vero pastore, il Signore è il mio pastore. Cioè, Gesù manifesta attraverso San Pietro la grazia di Dio a tutta la Chiesa, ed è sempre Gesù che opera, no? Quindi possiamo dire che San Pietro partecipa di questo carisma, no? Di questo carisma meraviglioso, perché Dio stesso, Dio Padre, parla direttamente al Papa per guidare la Chiesa. Ecco, e Gesù si manifesta anche a noi, non è che si è manifestato. È stato agli apostoli, ma si manifesta anche a noi, come dicevo prima, soprattutto durante la Messa. Quindi la partecipazione a Messa è fondamentale per vedere Gesù, per amare Gesù, per ascoltare Gesù. Quindi Gesù risorto si manifesta a noi durante la Santa Messa. Il momento più forte, più bello, ecco, della Santa Messa per me è quando, che sono le parole della consacrazione, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue versato per voi e per tutti, e poi anche con la comunione. Cioè, possiamo dire che come Gesù si mette a servire gli apostoli, abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, così durante la Messa continua a servire e ad amare ciascuno di noi. Ecco, Gesù ci vuole veramente bene. Quindi ecco, ringraziamo il Signore, ecco, vi ho offerto questo piccolo pensiero domenicale. Al termine, ecco, di questo pensiero domenicale, ecco, vi ricordo le Sante Messe, tra poco ci sarà la Messa nella Chiesa Matrice alle otto e mezza, poi alle undici ancora nella Chiesa Matrice, e poi alle diciannove la Santa Messa nella Chiesa dell'Immacolata, inizia il Mese Mariano. E adesso diciamo insieme un'Ave Maria e vi do una Santa Benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Per intercessione della Vergine Maria, vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e Santa Domenica a tutti!